Voglio subito specificare che la domanda che pongo nel titolo del video non è assolutamente retorica. Guardate che molti analisti stanno sottolineando come in Italia in questi ultimi anni gli spostamenti di voto da un partito all'altro, i cosiddetti flussi elettorali, beh, abbiano avuto notevoli variazioni, un fenomeno impensabile, perlomeno nella misura, fino a qualche anno fa. Si fa sempre l'esempio del PD di Renzi, che all'Europe del 2014 aveva ottenuto quasi un plebiscito, superando addirittura la soglia del 40% dei voti. Consenso poi più che dimezzato nel corso di pochi anni. Ed un crollo simile, ma avuto in un lasso di tempo ancora più ristretto, da parte del Movimento 5 Stelle, che alle politiche del 2018 aveva ottenuto più del 32% dei voti. Tuttavia, il Partito Democratico, dopo il trionfo alle europee del 2014, ha subito almeno tre scissioni, quella di Articolo 1, Libere e Uguali, e più recentemente quella di Taglia Viva di Renzi e Azione di Calenda, mentre il Movimento 5 Stelle non ha avuto alcuna scissione interna. L'attuale segretario del PD ha poi già annunciato l'intenzione di arrivare a un forte cambiamento barra rinnovamento interno al partito, che potrebbe addirittura cambiare nome. Mentre all'interno del Movimento 5 Stelle, fino a pochi giorni fa, praticamente non era accaduto nulla di ciò, se escludiamo l'uscita di alcuni parlamentari confluiti però quasi tutti nel gruppo misto. Come tutti sappiamo, negli ultimissimi giorni invece ha rassegnato le dimissioni da capo del Movimento Luigi Di Maio ed ora staremo a vedere a marzo quel che accadrà dopo gli stati generali del partito. Potrebbero anche esserci novità clamorose, tuttavia, insomma, per il momento non c'è stata alcuna scissione. E cosa accadrà nei prossimi mesi? Beh, molto naturalmente dipende dalle elezioni in Emilia-Romagna, ma a mio avviso sarà ancora più importante l'eventuale approvazione di una nuova legge elettorale. Il rischio, per chiamiamola la sinistra, è evidentemente quello di frammentarsi ulteriormente. Una legge elettorale di stampo prettamente proporzionale invoie i partiti a moltiplicarsi, a meno che non si inserisce una soglia di sbarramento molto alta, tipo l'8%, però dato che si parla di una soglia di sbarramento al 5%, certo superiore a quella attuale, ma comunque non eccessivamente elevata, beh, le probabilità che in un prossimo futuro nell'area del centro-sinistra possano gravitare almeno sei partiti è un'eventualità non solo possibile, ma addirittura probabile. Ma tutti questi discorsi diciamo che non sono altro che una necessaria premessa per poi poter dare una risposta appunto alla domanda del video. Pur con la falcidia di voti avuta dal Movimento 5 Stelle, che nelle elezioni europee del 2019 ha perso circa 6 milioni di voti rispetto alle politiche dell'anno precedente, beh, tuttora il partito di Grillo-Dimaio, ma oggi dovremmo dire di crimi, al partito appunto di Grillo-Dimaio viene attribuito dei sondaggi con senso intorno al 16%. Si fanno spesso dei raffronti, soprattutto in questi giorni per la nota ricorrenza, col PSI di Craxi, che anche nei suoi anni di maggior fulgore non era mai arrivato a superare il 12%, eppure aveva assunto un ruolo, una grande importanza insomma nell'ambito politico. Certo, era tutta un'altra situazione politica, altri tempi, altri contesti, d'accordo, ma insomma la giro in questo modo, ecco. Cosa fa pensare a molti di trovarsi di fronte oggi ad un partito sull'orlo della disfatta quasi all'estinzione se gode invece ancora del consenso del 16% degli italiani? Chi ritiene che il Movimento 5 Stelle sia prossimo all'estinzione non sarà condizionato dal proiettare anche in futuro questa emorragia di voti che invece si potrebbe arrestare? Mi pongo anche quest'altro interrogativo. Perché il Movimento 5 Stelle non può mantenere quel 16-17% alle prossime elezioni, andare all'opposizione di un centrodestra vincente, e poi dall'opposizione riorganizzarsi per tornare a riacquisire nuovi consensi? Insomma, perché sono in molti a ritenere che per il Movimento 5 Stelle il declino sia irrefrenabile? Quindi, preciso meglio, non mi sto chiedendo se il Movimento 5 Stelle avrà un futuro o meno, ma mi domando perché in molti oggi prevedono che non avrà un futuro nonostante i sondaggi lo diano ancora intorno al 16%, quando ad esempio Salvini ha preso in mano la Lega con meno del 4% e oggi l'ha portata a superare il 30%. E allora, provo io ad azzardare un'ipotesi. Il Movimento 5 Stelle è davvero un Movimento e non un partito, quindi è destinato a scomparire quando vengono a mancare quei sogni, sarebbe forse più corretto dire quelle aspirazioni che lo avevano fatto nascere e ne avevano poi determinato il successo. In pratica, se da Movimento perdi la tua connotazione e diventi partito, beh, un partito come il PD e allora voto direttamente il PD o come diavolo si chiamerà in futuro. Ed il fatto che Zingaretti voglia arrivare a cambiare nome al Partito Democratico, a mio avviso, ha proprio questo scopo, cioè quello di inglobare al suo interno quell'elettorato del Movimento 5 Stelle deluso o comunque quella parte dell'elettorato pentastellato che abbia, diciamo, maturato la consapevolezza di aver partecipato ad un grande progetto che aveva come obiettivo un grande sogno, ma che poi, alla prova dei fatti, questo grande sogno si è dimostrato una grande utopia. Attendo quindi vostre considerazioni su questo tema che vi chiedo che ne pensate? Fatemi però dire un'ultima cosa, non c'entra con il 5 stelle, con il tema di questo video, ma è una cosa, una considerazione che vorrei comunque trasmettermi. riguarda la stupidità di certi personaggi e di certi ambienti ai quali invece i nostri media danno voce e credito. una doverosa premessa, come avete notato nei miei video io non parlo praticamente mai dei personaggi dello spettacolo, il gossip lo lascio ad altri canali, cerco di concentrarmi sulle cose importanti evitando di dare rilievo a certe bassezze. e non farò un'eccezione in questo caso, ma citerò la reazione di un personaggio dello spettacolo esclusivamente per fare una considerazione di carattere generale che ritengo invece abbastanza importante. Allora, Salvini fa quella cosa del citofono, ovviamente non interessa il giudizio qua sull'operato del leader della Lega. Come detto mi riferisco alla reazione di un certo personaggio dello spettacolo che, come tutti sanno, è molto legato al mondo della sinistra, ovviamente di quella sinistra denominata radical chic che frequenta spesso i salotti televisivi. Mi riferisco a Fabio Volo. Ebbene, dopo che Salvini fa quella cosa al citofono nel quartiere Pilastro di Bologna, Fabio Volo dai microfoni della radio che gli permette di trasmettere, in un monologo delirante, riferendosi naturalmente a Salvini, dice espressamente vai a suonare ai camorristi se hai le palle e poi successivamente stronzo senza palle. Ebbene, Fabio Volo è talmente idiota che non si accorge che si sta esprimendo con la frase più sessista che esista. Proprio lui, l'esponente di quella sinistra radical chic che ufficialmente disprezza il sessismo e odia coloro che si esprimono con termini sessisti. cosa vuol dire infatti se hai le palle? Ebbene, per Fabio Volo evidentemente se hai le palle significa se hai coraggio. Quindi per Fabio Volo il coraggio è una prerogativa maschile visto che le palle alle quali si riferisce Fabio Volo sono solo un'espressione volgare per indicare i testicoli. Ecco quindi Fabio Volo è proprio l'espressione classica è proprio l'esponente tipico della sinistra radical chic quella sinistra che qualora anche lo avesse avuto ha ormai da tempo portato il proprio cervello all'ammasso. Grazie a tutti.